Entro 15 giorni saranno avviate le manifestazioni di interesse per la vendita di Alitalia, lo ha fatto sapere il ministro dello sviluppo economico Calenda che ribadisce obiettivi del governo sono l'accessione integrale della compagnia ma anche possibili alleanze con altri vettori, escluso l'intervento dello Stato abbiamo già versato 8 miliardi dei cittadini Il procuratore di Catania Zuccaro riferirà tra poco in commissione difesa del senato sulla vicenda delle ONG che salvano i migranti in mare e sui legami sospetti con i trafficanti Guardia Costiera e Marina Militare replicano al magistrato, le ONG non costituiscono fattore di attrazione per gli scafisti e non intralciano il lavoro dei soccorsi Attesi per oggi i dati ufficiali delle primarie del PD contestati da Orlando e da Emiliano, sul fronte delle alleanze arriva un primo no a Renzi, quello dell'ex sindaco di Milano Pisapia che ritiene inaccettabile creare un fronte comune a sinistra escludendo D'Alema, occorre costruire un nuovo ulivo avverte il leader di campo progressista che si dice favorevole al premio di maggioranza alla coalizione Conto salato per la Brexit, si parla di 100 miliardi di euro, non è un castigo né una tassa, detto il negoziatore europeo Barnier Non pagheremo questi soldi, ha replicato il ministro britannico Davis In Francia è attesa per il faccia a faccia televisivo questa sera tra i due candidati alle presidenziali, Macron e la Le Pen Si allarga l'inchiesta sui falsi vaccini in Friuli Venezia Giulia, la procura di Udine ipotizza che i casi sospetti potrebbero essere almeno 20.000 e che oltre all'infermiera indagata che rispinge tutte le accuse ci sarebbero altre persone coinvolte, ne parliamo tra poco in TG Cronache Questa sera a Monte Carlo è andata dalla semifinale di Champions tra Monaco e Juventus Tra i bianconeri assente Chiedira per squalifica, Allegri avverte, dobbiamo stare attenti ai loro talenti e dobbiamo fare un gol Ieri sera intanto il Real ha ipotecato la finale grazie a un Super Ronaldo, autore di una tripletta all'Atletico Madrid Dunque una buona giornata dal telegiornale della SET e ripartiamo dal destino di Alitalia Abbiamo un po' le idee più chiare già dalla giornata di ieri, oggi è stato il ministro Calenda a dare una sorta di cronoprogramma di quel che capiterà nelle prossime settimane, innanzitutto il prestito ponte che serve per gestire l'ordinarietà che riguarda anche i voli, la regolarità dei voli, dei biglietti, la validità dei biglietti già acquistati per i prossimi sei mesi tutto dovrebbe andare regolarmente ma poi c'è la vendita di una compagnia in amministrazione straordinaria su quello che un ministro ha confermato che non ci sono al momento ipotesi di spacchettamenti Evitare lo spezzatino di Alitalia e 15 giorni di tempo ai commissari nominati ieri per aprire alle manifestazioni di interesse e il ministro dello sviluppo Calenda stamani a chiarire gli obiettivi e a dettare la tabella di marcia delle mosse da fare affinché l'ex compagnia di bandiera da ieri in amministrazione straordinaria possa continuare ad avere un futuro Per noi è prioritario l'acquisto dell'azienda intera in un contesto in cui si cerchi di rilanciarla ha detto ai microfoni di Radio Anch'io e ha nuovamente escluso la nazionalizzazione di Alitalia concetto rimarcato ieri dal Premier Gentiloni Il futuro della compagnia ora è nelle mani dei tre commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari Per far fronte alla difficile situazione finanziaria dell'azienda che perde al giorno circa 2 milioni di euro Palazzo Chigi ha messo a disposizione un prestito ponte da 600 milioni di euro Soldi pubblici prestati a condizioni di mercato con interessi che sfiorano il 12% in modo da non far scattare i divieti della Commissione europea altrimenti pronta a bollarlo come aiuto di Stato Soldi che dovranno tornare nelle casse dello Stato allo scadere di questi sei mesi Una scelta obbligata per il Ministro che ha sottolineato come il prestito sia un male necessario inevitabile perché mettere gli aerei a terra dalla sera alla mattina ha detto costerebbe molto di più ai contribuenti italiani Il governo spera così di garantire alla compagnia di continuare a volare in attesa di trovare un acquirente La cifra è superiore a quella prevista in un primo momento perché, ha spiegato Calenda, la IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree ha chiesto 128 milioni di deposito cauzionale Garantire l'operatività della compagnia è fondamentale, ha sottolineato Calenda anche perché l'estate è alle porte e ci sono circa 5 milioni di prenotazioni di biglietti e l'Italia ha una quota di mercato rilevante nel Paese Sull'idea poi avanzata da Renzi di una possibile quota statale il Ministro si è detto possibilista anche se ha sottolineato come non si possa prescindere da un'alleanza con un forte partner europeo Per salvare l'Italia, ha voluto ricordare però Calenda, i cittadini hanno già pagato 7,5 miliardi che sommati a questo prestito ponte fanno in tutto 8 miliardi di euro E poi c'è il caso sempre più politico e istituzionale delle ONG un'altra giornata importante al Senato tra poco di nuovo l'intervento di Zuccaro, il procuratore, lo sapete, di Catania che aveva parlato di presunti rapporti obliqui tra gli scafisti e chi nel Mediterraneo e salva i migranti poi però ci sono state le prese di distanza particolarmente significativa quella di un altro procuratore di Siracusa ieri i chiarimenti della Guardia Costiera che ha detto no, ci aiutano quelle navi e sicuramente gli interventi sono raddoppiati nel solo anno passato, il 2016 e poi anche il Copasir che ha precisato non esiste il dossier di cui ha parlato Salvini è il giorno della replica di Carmelo Zuccaro c'è attesa per la sua risposta ai dubbi, alle polemiche, alle considerazioni piccate tra poco il procuratore di Catania parlerà davanti alla Commissione difesa del Senato e spiegherà le ragioni che lo hanno spinta a quelle dichiarazioni contestate rese meno di una settimana fa su presunti legami torbidi tra alcune ONG e l'aumento del flusso dei migranti parole che hanno scatenato subito un aspro dibattito politico e che ieri e stamattina sono stati oggetto di ulteriori prese di posizione proprio davanti alla stessa Commissione parlamentare ieri era stato il turno del procuratore di Siracusa Paolo Giordano che aveva smentito di avere mai avuto nelle sue indagini evidenze di rapporti criminali tra ONG e trafficanti di uomini poi l'audizione di alcuni rappresentanti di organizzazioni non governative medici senza frontiere Save the Children che avevano rispinto con forza ogni tipo di addebito chiedendo di non fare accuse generiche per evitare un tiro al bersaglio dannoso per chi cerca di arginare gli effetti provocati dal dramma della migrazione anche se lo stesso Zuccaro aveva citato queste due ONG inserendole tra quelle virtuose al di sopra di ogni sospetto questa mattina invece davanti a due diverse commissioni avevano già parlato altri due componenti fondamentali dell'operazione e una off-or-med ed entrambi hanno di fatto smentito le dichiarazioni di Zuccaro prima la guardia costiana con il capo reparto Nicola Carlone che ha affermato che le organizzazioni non governative non costituiscono un fattore di attrazione per gli scafisti poi è toccato all'ammiraglio della Marina Donato Marzano prendere le parti delle ONG non esiste alcuna evidenza di manovre delle navi delle organizzazioni non governative che abbiano costituito intralcio per le operazioni del dispositivo mare sicuro della Marina Italiana, ha detto Marzano da queste parole partirà oggi l'audizione di Zuccaro in commissione del Senato i parlamentari cercheranno di capire quali siano gli elementi in mano alla procura etnea di certo c'è che come confermato dal presidente leghista del Copasir Giacomo Stucchi non ci sono dossier dell'intelligenza italiana sull'argomento Stucchi ha così smentito il suo stesso leader di partito Salvini che si era schierato con Zuccaro e confermato l'esistenza di quei dossier riservati la verità è che per tessa missione di Zuccaro i magistrati etnei lavorano su fascicoli forniti dai servizi segreti olandesi e tedeschi materiale che però non è utilizzabile come prova d'accusa in un processo italiano sulle affermazioni di Zuccaro sapete c'è anche una possibile valutazione del CSM che a quanto pare però è esitata a domani per evitare la concomitanza con l'audizione in Senato adesso andiamo ai ragionamenti non più quelli a caldo ma alle riflessioni numeri alla mano sui voti dove sono arrivati i voti delle primarie se hanno premiato Renzi e soprattutto che fasce d'età hanno toccato c'è sicuramente una mancanza di voti rispetto all'ultima consultazione ma poi c'è poi futuro da disegnare attraverso l'assemblea di domenica attraverso l'intervento sulla legge elettorale ma poi c'è anche il gelo con la minoranza che passa anche per un ultimo caso quello legato a Pisapia In attesa che dal PD arrivino i dati ufficiali sulle primarie che dovrebbero mettere fine alla querella con Orlando ed Emiliano che chiedono di ricontare i voti diffusi dalla segreteria nazionale a tenere banco in queste ore a largo del Nazareno è il no di Pisapia all'ipotesi di un listone con i democratici ma senza gli scissionisti di articolo 1 MDP avanzata da Renzi Il no a D'Alema è inaccettabile ha detto il leader di campo progressista che propone l'alternativa di lavorare insieme a IDEM ad una coalizione modello ulivo rilanciando l'introduzione del premio di coalizione nella legge elettorale altrimenti, precisa Pisapia il rischio è che nasca fuori dal PD una nuova forza politica di sinistra capace, come dice anche D'Alema di recuperare tutti i voti persi dal partito a guida Renzi I veti su D'Alema e Bersani dal PD mi aspetterei piuttosto veti su Berlusconi Renzi non ha minimamente corretto la rotta il suo atteggiamento rimane autoreferenziale divisivo e arrogante rincarra la dose Roberto Speranza da MDP anche all'interno del PD c'è chi rimane convinto della necessità di ricostruire un centro sinistra ampio ed inclusivo vedi gli sconfitti alle primarie Orlando ed Emiliano anche se quest'ultimo appare più morbido rispetto ai toni tranchant dei giorni scorsi se Renzi cambia registro sui temi da affrontare ed esce dalla logica dell'uomo solo al comando sarò un militante leale al suo fianco e non è detto che lo tormenterò dichiara il governatore della Puglia che sabato a Roma lancerà la sua corrente fronte democratico chi riconosce il risultato delle primarie è anche Enrico Letta che ha votato Orlando è chiara mi sembra la vittoria di Renzi e quindi credo alla fine che come sempre le primarie sono un momento che rivitalizza quando dalle primarie uno viene eletto segretario è naturalmente più forte di prima intanto il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina rilancia le parole di Renzi sulla necessità di ripartire con umiltà e responsabilità la sfida inizia ora nel governo dobbiamo lavorare molto per realizzare le riforme di cui hanno bisogno i cittadini mantenendo l'orizzonte del 2018 PD e governo sono una squadra unica precisa il numero 2 del partito il lavoro sarà il tema chiave sul quale Renzi ha deciso di puntare quando domenica prossima si presenterà davanti all'assemblea nazionale che lo nominerà il nuovo segretario del PD intanto ha già messo a lavoro i suoi su una proposta di legge elettorale che ricalca il modello tedesco con una soglia di sbarramento alzata al 5% collegi uninominali e premio di maggioranza alla lista a domenica guarda anche il popolo francese a dire la verità a tutta la comunità internazionale perché è un paese al bivio dunque il ballottaggio delle presidenziali o Macron o la Le Pen si va in due direzioni opposte lo toccheremo con mano nel dibattito televisivo di questa sera con Macron ancora premiato dai sondaggi la Le Pen a caccia dell'ultimo voto tanto da plagiare in parte il discorso di Fillon candidato dei Repubblicani battuto al primo turno per in qualche modo avvicinare ogni elettore ancora indeciso questa sera la Francia sarà divisa in due da una parte quella che vedrà in tv la semifinale di Champions League Monaco-Juventus dall'altra quella che seguirà l'attesissimo faccia a faccia in diretta tra Marine Le Pen e di Emmanuel Macron per la conquista dell'Eliseo a moderare il confronto in diretta su TFN e France 2 saranno i conduttori più popolari delle rispettive redazioni politiche a meno di sorprese dell'ultimo secondo sarà rigorosamente vietato inquadrare il volto dell'avversario mentre l'altro candidato parla dai rispettivi collaboratori si sa che Macron cercherà di mettere in luce la vaghezza del programma di Le Pen il suo approccio semplicistico per esempio con la marcia indietro sull'uscita dall'euro Le Pen sfrutterà la potenziale debolezza psicologica dell'avversario e non è escluso qualche colpo a sorpresa il duello durerà due ore e venti minuti l'Europa intera seguirà il dibattito con apprezzione il timore è che dopo la Brexit l'eventuale vittoria di Marine Le Pen possa innescare la Frexit l'uscita cioè della Francia dall'Unione Europea preoccupazione condivisa anche da capi di Stato e di governo è e rimane una decisione degli elettori francesi nella quale io non interferisco dichiara oggi Angela Merkel ma mi farebbe piacere se Emmanuel Macron vincesse perché lui è per una coerente politica pro Europa il 24 settembre prossimo lo ricordiamo toccherà alla cancelliera affrontare la sfida delle elezioni federali in Germania ma torniamo alla Francia dove il sondaggio del Centro Ricerche e Scienze Politiche Sevipov per Ipsot conferma il distacco percentuale nelle intenzioni di voto del candidato di En Marche dall'avversaria del front nazionale Le Pen 59 a 41 per Macron però la battaglia potrebbe diventare più complicata i risultati della consultazione interna indetta dal leader di France Insoumise Jean-Luc Mélenchon danno i due terzi della sinistra radicale decisi a non votare o a presentare scheda bianca questo sommato alla variabile estensionismo potrebbe giocargli un brutto scherzo e ci sono poi i media britannici che parlano già di una Brexit ad alta tensione perché l'hanno definita così non solo tanto perché il cammino verso l'uscita da Unione Europea è lungo e travagliato ma perché riguarda adesso è chiaro anche tanti tanti soldi sono quelli che non per punizione ma per gli impegni presi Londra dovrebbe o dovrà pagare ma le intenzioni sono tutte altre Oggi è il giorno di Theresa May dalla regina per la richiesta ufficiale di scioglimento della Camera dei Comuni in vista delle elezioni anticipate del prossimo 8 giugno ma è anche quello della presentazione da parte del capo negoziatore per l'Unione Europea Michel Barnier della bozza di mandato a trattare con Londra che dovrà essere poi approvata dai governi il 22 maggio e che traduce e dettaglia le linee guida licenziate all'unanimità dal Consiglio Europeo di sabato scorso insomma Gran Bretagna ed Europa si preparano all'inizio di negoziati che si annunciano come dichiarato dallo stesso Barnier lunghi e difficilissimi e questo anche alla luce del clima che si è venuto a creare negli ultimi giorni al governo britannico non sono piaciute le indiscrezioni apparse sui giornali tedeschi circa l'esito disastroso della cena di una settimana fa tra il presidente della commissione Juncker e la Premier May Pettegolezzi di Bruxelles li ha liquidati Downing Street facendo trapelare tutta la propria irritazione per notizie la cui diffusione evidentemente è attribuita proprio ai vertici delle istituzioni comunitarie sarò durissima nei negoziati ha fatto sapere May mentre Barnier ha dichiarato che l'Unione difenderà i propri interessi senza aggressività ma anche senza ingenuità aggiungendo che Bruxelles si sta preparando a tutte le opzioni dunque anche a quella peggiore ovvero una non intesa del resto lo stesso Juncker aveva fatto trapelare che secondo lui le possibilità di fallimento sono superiori al 50% tre i punti caldi che secondo i 27 devono essere risolti prima della definizione di ogni tipo di accordo di partenariato con Londra i diritti dei cittadini europei residenti in Gran Bretagna la gestione dei confini tra Irlanda Irlanda del Nord e gli impegni finanziari quest'ultimo rischia di essere lo scoglio più insormontabile fonte di futura divisione anche tra i paesi membri Bruxelles pretende che Londra continui a pagare quanto promesso fino a scadenza del bilancio pluriennale dell'Unione oltre ai costi relativi alle conseguenze dirette della Brexit e a quelli di trasferimento dell'autorità bancaria europea e dell'Agenzia del Farmaco siamo disposti a saldare quanto dovuto in base agli accordi ma non qualsiasi cifra Bruxelles voglia imporre ha dichiarato il ministro britannico per la Brexit David Davis aggiungendo non abbiamo alcuna intenzione di pagare un conto di 100 miliardi di euro dunque abbiamo parlato del voto francese abbiamo parlato della Brexit delle modalità che seguiranno ma poi c'è un'altra vicenda in cima alle preoccupazioni di tutta l'Unione Europea e non solo è il destino della Libia quel faticoso cammino verso la normalizzazione un passaggio importante è avvenuto ieri con l'annuncio dell'accordo ad Abu Dhabi l'accordo raggiunto ad Abu Dhabi è una svolta significativa nel cammino verso la soluzione della crisi libica dichiarazione di circostanza quella del ministro degli esteri degli emirati arabi ultimo sponsor delle travagliate trattative tra le due parti al potere in Libia ovvero il governo di Tripoli riconosciuto all'esterno del paese e guidato da Fayez al-Serraji ed il cosiddetto Parlamento di Tobruk la cui figura più rappresentativa è ancora il generale Khalifa Haftar l'accordo è centrato su tre elementi importanti la formazione di un esecutivo che porti alle elezioni nel 2018 il controllo dell'esercito e il disarmo di tutte le fazioni armate che si sono date battaglia dopo la fine dell'era di Muammar Gaddafi nelle prossime settimane dovrebbe formarsi il nuovo consiglio di stato composto dal presidente del Parlamento di Tobruk ed in questa fase iniziale dagli stessi Sarraj e Haftar più difficili potrebbe risultare invece il disarmo delle milizie armate anzitutto quelle della Tripolitania nemiche dichiarate del generale Haftar che ha invece accettato anche l'accordo sulla formazione di un unico esercito dove presumibilmente dovrebbero convivere ex miliziani a lungo in conflitto tra di loro Haftar su cui sono concentrate molte attenzioni e curiosità si sta dimostrando meno aggressivo in questa settimana avrebbe dichiarato di accettare di servire il paese sotto un governo riconosciuto governo civile aspettando le elezioni presidenziali del prossimo anno a cui vorrebbe presentarsi come candidato con le legittime cautele per adesso tutti plaudono questa svolta libica l'atmosfera definita positiva conferma che i due schieramenti hanno ricevuto assicurazioni importanti sul futuro del paese Tripoli e Tobruk ci avevano già provato tra il 2014 e il 2015 a dare corpo ad un primo accordo di pace imposto dalle Nazioni Unite il petrolio la religione l'eredità di Gheddafi ed enormi pressioni esterne oltre all'arrivo del califato di al-Baghdadi in Libia fecero saltare tutto in pochi mesi ed i libici ripresero a spararsi l'uno con l'altro e poi naturalmente c'è ancora la Siria anche quella è una vicenda da aggiornare in qualche modo l'hanno fatto toccando anche l'argomento Corea Putin e Trump non è un colloquio seppur telefonico da sottovalutare perché è la prima volta che c'è stato un confronto tra i due leader dopo il bombardamento il raid USA in Siria contro Assad dunque di Siria in particolare si è parlato stanno ragionando ancora in Kazakistan le rispettive delegazioni proprio per cercare di creare innanzitutto zone umanitarie Ad Astana capitale del Kazakistan parte con il piede sbagliato il quarto round della maratona negoziale sulla tregua in Siria i delegati delle opposizioni infatti hanno deciso di sospendere la loro partecipazione fino a quando non cesseranno i bombardamenti aerei di Assad che provocano stragi tra i civili ci sarà invece per la prima volta una delegazione statunitense guidata dal segretario di Stato per il Medio Oriente Stuart Jones ieri c'è stato il primo contatto telefonico tra Trump e Putin dopo il raid punitivo contro Assad ordinato dalla Casa Bianca i due hanno parlato anche della Corea del Nord ma è chiaro che il piatto forte è stato proprio il conflitto siriano un colloquio certo non decisivo ma in ogni caso distensivo visto che è stato giudicato molto buono dall'amministrazione americana pratica e positivo dalla Cremlino i due leader sono d'accordo sul fatto che la sofferenza sia già durata troppo e che tutte le parti debbano fare il possibile per porre fine alle violenze in ogni caso sono state gettate le basi per un primo faccia a faccia e i due potrebbero incontrarsi a luglio al G20 di Hamburgo ma intanto oggi è previsto un altro vertice importante quello a Sochi tra Putin e Erdogan anche loro devono riallacciare i fili di un rapporto che si era interrotto dopo il bombardamento con il Sarin a Idlib Ankara aveva accusato duramente il regime di Damasco e Mosca non aveva gradito ma oggi le premesse sono buone trovare una soluzione politica in Siria mantenendo l'integrità territoriale del paese è un obiettivo che abbiamo in comune con la Russia con la quale cooperiamo ha spiegato Erdogan prima di partire per Sochi i due discuteranno soprattutto della proposta russa di creare quattro zone di riduzione di tensione nel territorio siriano nella provincia di Idlib a Oms alle porte di Damasco e nel sud del paese serviranno a evitare provocazioni e schermaglie tra governativi e ribelli e a creare corridoi umanitari a proteggere queste zone sarebbero i contingenti militari di Russia Iran e Turchia che sono i paesi garanti dell'accessato il fuoco dichiarato il 30 dicembre scorso dunque veniamo a un gesto di simbolica almeno parziale riconciliazione che cerca di chiudere una storica ferita aperta ancora 73 anni dall'eccidio nazista delle fosse ardiatine la prima volta che accade infatti stamani vediamo insieme le immagini che bandiere italiane e tedesche hanno sventolato insieme nel luogo della strage i presidenti della Repubblica federale tedesca in visita ufficiale in Italia e Mattarella hanno deposto una corona nel mausoleo dell'eccidio delle fosse ardiatine quella memoria non era mai stata celebrata insieme dalle due nazioni il 24 marzo del 44 le truppe naziste trucidarono 335 civili e militari italiani come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella la cerimonia di oggi rappresenta anche una rappresentanza della comunità ebraica con il rabbino De Segni e la sindaca Raggi adesso veniamo alla Champions al calcio dunque alla grande notte della Juventus che si gioca contro il Monaco un posto nella finale di Cardiff possiamo già dire che lì ad attendere ci sarà con ogni probabilità ancora il Real Madrid o meglio dire ci sarà Cristiano Ronaldo 5 gol nei quarti contro il Bayern 3 ieri per liquidare di fatto le ambizioni dell'Atletico cosa serve ad Allegri ha detto molto onestamente non la partita perfetta una partita giusta lo scudetto è ormai quasi in tasca e la Juve si presenta allo stadio Louis D del Principato di Monaco con grande serenità all'appuntamento crocevia della stagione stasera la semifinale di andata di Champions League contro i francesi e i bianconeri cercano nell'arco dei 180 minuti il pass per la finale un primo passo verso la Coppa sfuggita due anni fa e magari un primo piccolo mattone per il triplete idee chiare sulla formazione per sbancare Monte Carlo Buffon tra i pali difesa a quattro con Dani Alvesce, Alex, Sandro, Esterni e Bonucci e Chiellini centrali davanti a loro Pianici e Marchisio al posto di Chedira squalificato poi Quadrado, Mandzukic, Di Bala e Iguain Allegri mette in guardia i suoi sulle qualità del Monaco l'attacco del Monaco parla di numeri perché non so quanto è fatto di preciso però l'ha fatti tantissimi ai giocatori che si trovano bene insieme perché Falcao è un giocatore di esperienza alla fine dopo una squadra fa dei risultati perché oltre che all'organizzazione ha anche dei buoni giocatori il Monaco di Jardim giovane e frizzante partito a luglio dai preliminari di Champions è primo in campionato davanti al Paris Saint Germain ha vinto il suo girone poi ha eliminato il City e il Dortmund trascinato dalla classe di Falcao e dalla potenza del giovane classe 98 Mbappé i suoi tre attaccanti hanno segnato insieme 65 gol stagionali a meno che a fine gara non ci sarà per una o per l'altra squadra uno scarto di di due o tre gol secondo me qualsiasi tipo di risultato con le caratteristiche che hanno loro lascerebbe aperta la qualificazione anche per il ritorno nell'altra semifinale il Real ha annichilito l'atletico nel derby di Madrid ipotecando la finale di Cardiff rotondo 3 a 0 al Santiago Bernabéu con Cristiano Ronaldo ancora assoluto protagonista autore della tripletta uno nel primo e due nel secondo tempo che lo porta a dieci gol in undici partite in questa Champions League movimenti e realizzazioni che certificano la trasformazione definitiva di Ronaldo da attaccante esterno e punta di movimento a centravanti praticamente immarcabile e i numeri continuano a parlare per lui 399 gol in 389 partite con Real evidente che per l'atletico di Simeone l'impresa diventa quasi impossibile e staremo a vedere nel frattempo ci fermiamo naturalmente ancora l'informazione del TG Crona che con Raffaele di Rosa si riparte ancora una volta dai vaccini grazie se volete come sempre domani alle 13.30 siamo qui grazie